giorni di Pasqua tristi a due ville Montecchio per Calcino per chi sta affrontando il lutto per la perdita di Viviana Bassanna di 47 anni una mamma vicentina che ha concluso l'ultima fase di vita costellata dalla sofferenza a causa di un grave male di natura oncologica lascia il marito Ivan Girardello e l'unico figlio Riccardo i genitori Gaetano e Luigina e gli altri affetti più cari il funerale si terrà a due ville a partire dalle 15 nella chiesa del centro cittadino proprio nella città dove era cresciuta per 20 anni la maestra Viviana aveva accompagnato nei primi passi tanti bambini nella ruolo di insegnante un'attività quotidiana che lei divenuta poi psicologa non aveva messo da parte rinnovando il suo impegno verso le fasce d'età più fragili mettendosi a disposizione con le consulenze nello studio di Contra San Francesco a Vicenza a unirsi nella preghiera nei messaggi ai familiari anche la vicina comunità di Montecchio per Calcino dove la 47enne si era trasferita con marito e figlio maestra e mancata sabato attorniata da chi aveva condiviso le gioie di un cammino d'amore e di crescita prima di doverne affrontare il difficile tratto conclusivo per una donna che da un paio d'anni lottava contro la patologia che l'aveva debilitata con mossole a ricordo di colleghi e colleghe in particolare della scuola materna di Amicis di Dueville Grazie per la visione! Grazie per la visione!